alla protesta della Lega Nord Alto Adige e Suttirol contro i tagli nelle forze di polizia. Vediamo com'è andata. La chiusura della stazione di polizia ferroviaria di confine al Brenner è un provvedimento contro la sicurezza voluto dal governo e sostenuto dalla SVP che simbolicamente annulla il confine ferroviario e permetterà a chiunque di entrare e uscire indisturbato dai nostri confini. Senza mezzi termini interviene così il commissario regionale della Lega Nord Maurizio Fugatti durante un presidio organizzato per oggi al Brennero. Sì, siamo qui al Brennero simbolicamente perché è il confine di Stato. Qui chiude la polizia ferroviaria e la polizia ferroviaria chiuderà anche a San Candido, a Merano e a Fortezza. Chiuderà la polizia stradale di Merano e chiuderà il commissariato di Bressanone così come chiuderà la polfer di Roveretto. Allora, simbolicamente al Brennero perché il Brennero è il confine quindi l'ufficio di polizia ferroviaria non ci sarà più quindi noi diciamo che il confine, al di là di Schengen, conosciamo tutte le questioni della libera circolazione però qui sul confine di Stato non ci sarà più un controllo di polizia ferroviaria. Il tema della sicurezza secondo noi è al centro ancora delle problematiche della cittadinanza, dei cittadini quindi fare queste scelte sulla pelle della sicurezza, vantaggio della microcriminalità e dei furti che alla fine la gente subisce sono scelte sbagliate. Chiudere al Brennero vuol dire simbolicamente che non c'è più il controllo ai confini di Stato. Tagli lineari alle forze di polizia e smantellamento dei presidi territoriali tagli, come prosegue Fugatti, voluti anche dalla SVP. Ricordiamo che questi provvedimenti sono fatti con i voti della Sud Tirol e del Volkspartei che va a Roma e vota queste cose e poi torna a Bolzano e si dimentica di aver votato queste cose quindi i cittadini dell'Alto Age e Sud Tirol devono sapere che questi provvedimenti sono votati dalla SVP. ognuno deve assumersi le proprie responsabilità politiche. Infine la Lega Nord si dice pronta a dare battaglia se il Governo pensa di trovare le coperture per le sue promesse elettorali mettendo a rischio la salvaguardia dei cittadini.